Torniamo nelle zone del terremoto dove le scosse continuano a susseguirsi e dove il freddo si fa sempre più intenso. Per questo il governo accelera per l'arrivo dei container nella zona. Ci aggiorna in diretta il nostro inviato Gabriele Lobello. Gabriele a te. Buongiorno, la terra continua a tremare. Ieri 100 scosse. Solo dalla mezzanotte di oggi siamo a oltre 52 più forti. Sono state avvertite chiaramente dalla popolazione e a ogni scossa aumenta il rischio crolli come per il campanile del 1200 alle mie spalle della chiesa di San Francesco di Pieve Bovigliana da dove vi stiamo parlando. Questa notte ha nevicato, è cominciato il freddo e bisogna pensare a come passare l'inverno. Ieri il capo della protezione civile ha annunciato l'impiego di 900 casette che andranno a sostituire container che arriveranno prima e che saranno apprecisato solo una soluzione provvisoria. Il commissario per la ricostruzione Errani domani renderà noto l'elenco dei 130 comuni del nuovo cratere sismico, comuni che ricadono in quattro diverse regioni. Una scossa dopo l'altra questa terra si sta modificando profondamente, anche le sue falde acquifere che modificano il paesaggio. Di questo parlerà il servizio che vi abbiamo preparato e poi la linea può tornare allo studio. Questo laghetto sopra Castel Sant'Angelo fino a pochi giorni fa non c'era. La sua acqua sgorga dal sottosolo e poi trascima andando a finire nel fiume Nera che nasce poche centinaia di metri a monte. Ai cambiamenti del paesaggio dovuti al terremoto si aggiungono anche quelli dell'acqua che affiora ovunque. Questo prato che c'è qui è diventato un pantano. Purtroppo sì, questo non lo era così. Inizialmente pensavamo che fosse qualche tubo rotto. Dovrebbe esserci che ci sia qualche tubo ma sono stati chiusi. Però questa quantità così diffusa non ci passa l'acquedotto. Così di ora in ora il mistero dell'acqua nell'alta Valnerina si compie, mostra nuovi segni, desta nuove preoccupazioni e il filo conduttore è il Nera. Seguendo il corso delle acque si arriva a Visso dove troviamo un altro lago che prima non c'era. Esiste dal 30 ottobre quando con la scossa di 6.5 la montagna è crollata sul fiume. Qui l'acqua continua a salire e ad accumularsi con rischi idrogeologici. La preoccupazione eventualmente sarebbe per un rilascio contemporaneo di una massa di acqua. A Valle ci sono degli allevamenti di trote che potrebbero subire dei danni a causa di questo. Rischi per l'incolumità però non ce ne dovrebbero essere. Le poche persone a Valle della Frana sono state evacuate da tempo ma gli allevamenti restano là in attesa degli eventi. Il fiume ha raddoppiato la sua portata e con l'andare del tempo potrebbe crescere ancora e questo rappresenta un ulteriore rischio per le poche persone che vivono ancora a Visso e per quel che resta del paese.